La compa esercenti Chieti, ringraziamo Toyota Saraceni a Chieti, Lanciano e Basto, il Gelatone, Gelateria Artigianale a San Buceto e Montesilvano, ringraziamo anche il Caffè Palombini a Brutz Off Road, Ristorante di Renzo, Sabrina Couture, Abiti Sposa, Torino di Sangro che tra l'altro più tardi vedremo sfilare con questi pavolosi abiti da sposa, la nuova estetica di Gualtieri Donatella di Villa Alfonsina ringraziamo, anche Rosso Lacca, attrecciatura per parrucchieri e ovviamente il media partner con noi, Setteva, Cicco Catenacci che salutiamo presente anche in giuria. Ringrazio tutti e soprattutto gli sponsor, questi sono quelli legati un po' alla nostra città, ma abbiamo i nostri sponsor nazionali come Bikes Accessori Moda, Caral, Amica Ciz, Lubailu Collection, Ogam, General Line e ancora Play, Decor Mar e poi Linais, Escosidista per l'Italia, Carpi Motor, U International, Air and Beauty Magazine, Because Models, Fashion and Lifestyle, la Why Not Model Agency, Canale Italia e TV Stelle. Un grande applauso per loro che sono i nostri partner nazionali e anche quelli locali che hanno permesso questo evento. E volevo anche tagliare l'ottazione per ringraziare la truccatrice che ha truccato a me e le splendide ragazze che tra poco vedrete, della nuova estetica di Gualtieri Donatella. E poi avremo modo di salutare e parlare anche di loro diffusamente. Un bel applauso, fatelo, fatelo anche perché le ragazze si stanno preparando, noi abbiamo un lungo elenco, tra un po' le presenteremo una alla volta, ci facciamo un po' da parte, non so se dobbiamo spostarci da queste parti perché tra un po' arriveranno qui con noi per questo quadro di presentazione. Vediamo tutte le concorrenti che questa sera sono qui nella Villa Comunale, di fronte alla Casina dei Tigli, in questo splendido scenario dove si svolge questa selezione regionale di New Model Today. Prego, diamo spazio alla musica e alla bellezza. Ed ecco qui la nostra prima concorrente, numero uno con noi, Angela Moretti, 21 anni, da Francavilla al Mare, studentessa universitaria, scienze infermeristiche e tra gli hobby, palla canestro e patinaggio. La ringraziamo, è qui a fare la numero due. La numero due è il Paolo Andabaldi, ha 16 anni e viene da Chiesi, è alto e 380, ha una stigione di testa e ha una ragazza latinoamericana e rettitale.